Sono tornato amici perché abbiamo un clamoroso retroscena assolutamente da raccontare su Ambrangiolini. Allora, svelato tutto questo che vi dirò da Mario Giordano nel corso della sua trasmissione, sapete fuori dal coro quello che fanno su Rete4, c'è una rubrica che si chiama Ladri di case, che è portata avanti dal programma Mediaset ed ecco che ha spuntato qualcosa di davvero super incredibile sull'attrice e conduttrice italiana. In particolare è stato tirato fuori un documento fin qui mai svelato che fa chiarezza su un brutto episodio che ha coinvolto la donna. Infatti lei ha ricevuto delle accuse dure nei giorni scorsi da parte dell'ex moglie di Giampaolo Pazzini. Beh, tra poco sapremo questa cosa di Ambra e cosa soprattutto ha scoperto Mario Giordano. A fine settembre, intanto, lei è stata protagonista di una frecciatina X-Factor nei confronti dell'ex Massimiliano Allegri. È stato detto, se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto l'ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita, è per me assolutamente no. E dietro la frase di Ambra molti hanno letto una specie di confidenza, l'aver provato non poco rammarico in seguito alla fine della relazione proprio con Max Allegri. Parlando dell'argomento in questione di Ambra Angiolini si sta invece occupando Mario Giordano, alla luce di alcune pesanti affermazioni di Silvia Slitti, la quale ha denunciato una situazione che vedrebbe coinvolta l'ex di Nonella Rai. A quanto pare, anche se sembrerà strano, Ambra sarebbe abusiva. Sarebbe abusiva nella casa dell'ex coniuge dell'ex calciatore Pazzini. Cioè, una notizia veramente incredibile. E adesso la trasmissione fuori dal coro ha svelato il documento riguardante l'ordinanza che dà praticamente il via libera allo sfratto del 3 ottobre scorso, che l'andrebbe a mettere assolutamente nei guai. Questa la rivelazione di Mario Giordano nella puntata che c'è stata il 18, quindi l'avrete anche sentita. Comunque, ha detto. Sul documento compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 di giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida. D'altronde, da mesi lui non vive più nell'appartamento. Chi sta occupando abusivamente è Ambra. L'allenatore della Juve non pagherebbe più l'affitto perché ormai si sono detti addio. E la Slitty avrebbe dato tempo all'Angiolini di andare via, ma non è successo che se n'è andata, è quello il fatto. Ambra dovrebbe andarsene, quindi diciamo il prima possibile anche da quella casa. E il sito libero quotidiano che ci ha svelato tutte queste cose ha anche rievocato un'affermazione della proprietaria dell'abitazione, ovvero ho ricevuto una diffida da parte dell'avvocato della signora Angiolini che mi intima a non parlare più della vicenda, una diffida che non trovo giusta dal momento che dobbiamo avere la libertà di parola. E questo è tutto per quanto riguarda questa dichiarazione. Vedremo cosa succederà su questa storia che anche io non mi aspettavo. Per ora è tutto, un saluto grande da Max, rimanete informati, tornate a trovarmi dove? Su Pausa Caffè Live.